musica benvenuti salve a tutti bentornati questo è Rush Online si un gioco abbastanza carino lo scopriremo adesso per essere un free to play scanzatamente già pociai come potete vedere e notare che vi fornisco degli abitini per non sembrare degli straccioni fin dal livello 1 c'è una guida per arrivare al livello 11 che diciamo che è a livello introduttivo, noi siamo a livello 6 quasi 7 questo è carino potete notare anche gli effetti gradevoli gli alberi che si muovono il rumore dell'acqua forse l'unico difettone è l'acqua il mondo sembra molto vivo di notare le nuvole le nuvole quindi siamo di qui perché se cercate un giochino in cui l'ambiente non vi faccia sentire un estraneo come SWATER lo sapevo che avresti detto questo potrebbe essere fare al caso vostro ovviamente e non pagare ovviamente perché poi a pagamento c'è di meglio comunque comunque vi interessa fare qui sto ancora cercando non ho capito cosa in realtà lo so ah un'altra cosa brutta di questo giro è che mi spariscono le quest ogni volta che sloggo perché? non ho capito forse non ho letto come al mio solito sai io non tu non vuoi leggere bravo e questo dice che sono questa icona sopra la capocciona dice che mi trovo nella zona dove fare questa quest ah ok altrimenti c'è una specie di tubo che mi indica la via di dai di tubo è una sorta di freccia razzo indicativa devo ammazzare questi qua credo ho dei cubes uno mi sposto se vi faccio vedere ovviamente non la grata ma le manco oddio l'acqua troppissimo ricordiamoci per essere un prodotto gratuito che offre ah allo shop però diciamolo vabbè tutti i giochi più o meno gratis poi alla fine hanno un simpatico shop al quale vi dovete rivolgere ecco questa è la freccia a razzo ecco la freccia a razzo vi dice che la quest la doveste fare di là perché sono venuto qua per farvi vedere un po' la città tanto questi non aggono l'ultima parola è proprio schiaffia schiaffia a botta mazza come si direbbe da queste parti sì vi faccio vedere un po' la zona non sarà ovviamente questo è un filmato non c'è un lunghissimo perché non è che c'è molto da da dire ci sono una novità particolare ecco ci sono questi mostri vivenne con mandare in chief livello 20 ovviamente vi ostruisce le palle qui ci sono guardie che non so se pioneranno o no comunque questa è una miniera guarda ti dirò no probabilmente questa è una roba mica che tra i free to play di questo genere diciamo molto per i free to play di orientamento orientale scusate il gioco di palo diciamo eh di questo genere sì non è brutto no è una fascia medio alta diciamo ecco graficamente gira anche su macchine più scarse anche se stiamo provando full effect su una macchina a un certo livello no ma ci sono tanti piccoli particoli a parte il vestitello caruccio all'inizio poi è un cesso di vestito però almeno graficamente è bello voglio dire a lì ci sono qui potete vedere fans and fengi che sono due giocatori che pescano perché non si dica che la pesca puoi fare eh vedi puoi fare tante cose social a me mi piacciono le cose social sì forse sai che cosa dovremmo provare già che siamo in argomento che non abbiamo fatto filmati che non abbiamo provati rule of magic cults online non abbiamo fatto filmati no e dobbiamo fare perché sono dei free to play più western orientati a giocatori occidentali se vi interessa lo facciamo così lanciamo questa questo sondaggio salutiamo come la chiamiamo la tizia di alicia non lo so pirit sì che è il nome che mi ricordo che ci ha raggiunto sull'otro ieri è già livello 12 probabilmente avrà continuato ieri sera quindi salto intorno a 15 credo se non 20 nerd mica da scherzi a quale ringraziamo per il filmato che faremo di nuovo su alicia online a breve a breve anche questo allora possiamo dire anche dove ci potete trovare ci potete trovare sull'otro e quello penso che l'abbiate capito su star trek online uh hai droppato una spada sì ma il cannone di vanessa sembra una roba da drogate diciamo su star trek su pirate of burning sea ma un po' meno degli altri due titoli a me mi potete trovare finché non mi scade l'abbonamento su suotro poi salutiamo una volta scusa l'abbonamento saluti e baci e arrivederci con molta franchezza per adesso questi sono i titoli principali poi salto realmente su titoli tipo apb fallen earth da solo ovviamente perché diciamo che questi non sono titoli che apprezza particolarmente diciamo che mi sento abbastanza male diciamocelo diciamocelo io sono delicata che pensi sì delicati allora si una questa l'ho fatta la potrei voler restituire devo restituire una a questa così facciamo vedere anche una a questa bravo allora vi facciamo vedere come si cammina sulle acque perché qui c'è questa strababilità anzo non si nuota vero? no questo è come swatter non si nuota no troppo difficile sì vabbè però fai certi cerchi nell'acqua ora ci viene disturbata dagli ammiratori al telefono ma che sarà mia mamma questo ho fatto tanto che questo è mia mamma infatti la richiamo chiameremo quanto prima adesso adesso possiamo scegliere di uccidere i monster cubs noi qui quindi possiamo dire questo gioco non so se avrete proprio di meglio da fare e siete intrippati con noi dalle esplorazioni questo sta ammazzando mezzo ma non ha droppato niente ancora il gioco è abbastanza popolato e puoi lutare la roba degli altri vero? no significa un ladro eh sì solo la vera perché i soldi sono dei quadri qua vedi vabbè che significa però abbiamo scoperto anche questa cosa qui ci sono dei tomatoes o delle zucche delle zucche ecco mi sono incastrato non può mancare nulla ma ci manca solamente che muori è impossibile quello che ci manca ecco qui ah mouse e club sì mouse e club ecco qui è morto si deve ammazzare altri 4 c'è uno che è molto difficile beh anche le animazioni delle spell non sono male sì io di solito prendo un cast quando faccio queste prove perché hanno le animazioni più belle infatti non sono malvagie mi piacciono vedi io promuovo questo titolo sì io darei un 5 e mezzo 6 convieni con me che hai promosso questo titolo sì così io vorrei dare rispetto ai soldi spesi probabilmente rispetto a suotor che usiamo come termine paragone o lì esce iron free to play allora mettiamo iron nella nel calderone del free to play o rift che ha l'endless try a proposito dovremmo provare anche rift con l'endless try allora a quel punto questo gli dai 2 vabbè cioè bisogna vedere come lo vuoi considerare in paragoni a cosa eh perché se lo consideriamo in paragoni all'otro vabbò eh l'otro lì da 3 punti una scopa questo è una zezzaria in confronto eh capito quello è però se vi da fastidio ecco questo credo ci sia PK che sta per player killer che se questo è imbrontato al pvp e voi vi piace ammazzare la gente e poi c'è questa come un ignorante probabilmente fa per voi voglio dire pvp non mi piace a me personalmente io so c'è le orecchie strane in ogni gioco in ogni gioco ci sono personaggi con le orecchie strane che significa preventiviamo l'insonnia preventiviamo l'insonnia questa l'ho presa sì sta pure sì questa questa mi dà pure delle calzette minimo a livello 9 ah mi saluta guarda caruccio prendi questo anche qui sì hanno altri pezzi io che sono un ammiratore dell'esplorazione se vi piace andare in giro a voi i posti nei giochini lo promuovo sempre perché è una cosa che dai ecco questo non è male come gioco esplorativo no questo dice ancora i corns qua da ammazzare le famose bags che io non ho mai trovato cioè voglio ammenare un po' andiamo 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 costrazzo sulla capoccia scusa ma chi il marbero questa qua non è uccidere di nuovo quattro di questi da un po' e uno ma boh stessa questi prima mazza quattro di questi e boh però ci sono e in questi titoli non è scontato ripetiamo che ci siano le quest mi sento di darti ragione c'è l'inventario pieno come al tuo solito d'altronde poi ho finito questa quest e poi salutiamo i ragazzi si 10 minuti di questo gaming bastano e avanzano per quanto ripeto il gioco non è malvagio è carino si se avete voglia provatelo non ci troverete ovviamente questo è un toccate fuga se devo giocare un free to play preferisco fare il pirata con la canzoncina dei pirati com'è la canzoncina dei pirati a proposito oh che bella vita che bella da per la vita del bucaniere sono giù per il mare io voglio andare del pirata mi piace il mestiere basta preferisco da ah che non posso ricevere l'items perché ho l'inventario pieno l'ho detto prima vabbè comunque vi salutiamo con questa schermata con questa schermata così orrida almeno fatti salutare ecco così almeno se c'è un emote per salutare ce lo chiediamo ci piazziamo qui proviamo ah e comunque già che non è solo punto e clicca è un punto in più no flash emote emore vi salutiamo ci avviciniamo ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti